Oh mio Dio! Hola ragazzi, benvenuti sul mio canale. Per il primo video consiglio ho deciso di portarvi non un unico libro, ma addirittura un'intera saga. Si tratta della saga di Red Rising, scritta da Pierce Brown ed edita da Mondadori. È una trilogia del genere fantascientifico. Io sinceramente pensavo che tutto quello che riguardasse lo spazio, le astronavi, non potesse piacermi. In realtà questa saga mi ha completamente conquistata. La storia è di per sé molto intrigante, anche se ci sono delle parti un po', delle volte un po' banali. Però la vera forza della trilogia è data dai personaggi. Anche se il protagonista dell'intera saga è Darrow, il personaggio che io apprezzo di più per una serie di motivazioni è Severo. Severo è il miglior amico di Darrow. È un personaggio sui generis perché è maleducato, è rozzo, non si lava nel vero senso della parola. Però è molto devoto ai suoi amici, onesto, leale e crede nella causa. La causa che è poi la base dell'intera trilogia ed è la rivolta. Una rivolta che parte dal basso per poter scardinare un sistema governato sempre dagli stessi. Ed è una rivolta che parte dal basso e dall'interno, in modo tale da poter distruggere totalmente questo sistema. La trilogia comprende Red Rising, Golden Sun e infine Morning Star. La storia è ambientata nello spazio, quindi ci sono astronavi, guerre tra astronavi, pianeti colonizzati dagli esseri umani. Sì, perché gli esseri umani sono fuggiti dalla Terra, poi scoprirete per quale motivo. E hanno deciso di invadere tutto l'universo e il sistema solare. La trilogia di Red Rising termina con Morning Star, ma non finisce qui. No, perché Pierce Brown ha deciso che il mondo di Red Rising non poteva finire con Morning Star per la mia gioia e ha deciso di iniziare una nuova ipotetica saga con Iron Gold. Iron Gold racconta quello che accade diverso tempo dopo la fine della saga di Red Rising. I protagonisti sono sempre gli stessi, l'ambientazione è sempre la stessa, però ci sono nuove minacce, nuovi colpi di scena, nuove guerre, nuove distruzioni. A luglio negli Stati Uniti dovrebbe uscire il seguito di Iron Gold che si intitola Dark Age. Non so quando uscirà l'edizione italiana, molto probabilmente, almeno me lo auguro, in autunno. Non si sa se questa nuova saga di Golden Sun terminerà già con Dark Age o ci sarà un ulteriore libro, quindi anche qui una trilogia. A me sinceramente poco interessa. Più Pierce Brown scrive, più io sono contenta. Hasta la vista!